Allora Carlo Zoffoli, dirigente della Cesena Basket 2005, stagione importante è questa sia per Cesena Basket 2005 che per Amadori Tigers Cesena, stagione nella quale nasce ufficialmente, si concretizza una collaborazione tecnica fra le due società. Sì, è una stagione molto importante, è un progetto che ci è piaciuto da subito, questo istante quando ci siamo incontrati con il Presidente Valgimilli, con Gabriele, con Riccardo, ci hanno fatto questa proposta e devo dire che ci è sembrato subito molto interessante e perfettamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi e la nostra filosofia. Noi non abbiamo ambizioni di vincere campionati o di arrivare a chissà quale livello, i Tigers hanno, fra virgolette, chiuso un buco che a Cesena c'era e noi siamo molto contenti che ci sia questa squadra di vertice e poter dare ai nostri giovani, quelli più bravi, quelli tecnicamente, fisicamente più pronti, la possibilità di transitare eventualmente anche ai Tigers è una grandissima opportunità e il progetto di fare due squadre sostanzialmente in comproprietà fra noi e i Tigers che porterà in giro il nome di Cesena è stata un'idea senz'altro positiva e noi crediamo che possa proseguire anche negli anni successivi.